quale deve essere la caratteristica principale del volontario tutte le volte che mi confronto con il volontariato è inevitabile no anche questa idea diciamo di gratuità dell'agire no cioè volontario offre qualcosa no offre il tempo offre la competenza offre noi siamo tutti un po individualisti e siamo tutti un po egoisti e questo fa parte della natura umana il problema comincia quando appunto l'individualismo perde ogni limite perde ogni diciamo ogni anche ogni senso no e si scatena una persona empatica è una persona in primo luogo che vede l'altro che in qualche modo esce dal guscio appunto individualistico narcisistico no che in qualche modo prevale e appunto vede che c'è qualcun altro che ci sono gli altri il punto di fondo è rendersi conto dell'altro no cioè mettersi nei panni dell'altro questo vuol dire come si concilia l'impegno di cura con l'impegno per il rispetto della legalità come riusciamo nel nostro impegno come Ritec Roma a conciliare quello che è il principio di legalità cui ci impegniamo per primi nel far insomma nel rispetto delle regole con invece il discorso appunto di cura di avvicinamento verso l'altro questo anche discorso che faceva lei appena adesso di empatia e beh appunto io credo che ci sia una fortissima connessione nel senso che non solo le due cose non si auto escludono reciprocamente ma collaborano per l'appunto no ora voglio dire non voglio adesso andare troppo sul sul come dire sull'accademico ma l'etica della cura nasce in parte come una critica dell'etica della giustizia no nel senso di dire non a caso nasce dalle donne no nasce dal femminismo fondamentalmente perché come dire le donne hanno questa probabilmente questa dimensione nonostante tutto nel loro dna e a un certo punto si sono rese conto che la giustizia è un valore troppo astratto no quasi appunto un valore universale ma che in qualche modo quasi non si riesce bene ad afferrare no probabilmente non basta no ci vuole qualcosa di più e quel qualcosa di più è beh insomma per me è qualcosa che mi accompagna da una vita è l'aspetto emotivo è l'aspetto affettivo qual è il significato del nostro prenderci cura della città c'è la cura non è mai entrata nel grande il lessico dei grandi valori diciamo della civiltà occidentale moderna e c'è c'è è stata nominata è stata per certi versi apparentemente anche apprezzata ma solo se ristretta al puro ambito familiare diciamo no all'ambito del privato all'ambito appunto degli affetti privati e così via mentre il problema oggi è esattamente quello di estenderlo all'esterno quello che voi fate è già questo no cioè voi fate quello che con una espressione che trago proprio dai teorici del dono voi fate diciamo un dono agli sconosciuti no il volontariato fondamentalmente è questo e perché alcune persone sono diffidenti e quindi come dire ci si chiede che cosa no lo motiva questa gente diffidente che vi dice ma che volete da me io ho altro da pensare e non capisce non capisce perché tutto deve avere un tornaconto perché l'altro entra diciamo nella nostra il nostro universo eccetera solo in modo fondamentalmente strumentale e non come qualcuno che ha valore per me questo è il punto di fondo ricerca della bellezza e degrado perché alcune persone non vogliono sentire parlare di decoro urbano e insomma questo è un punto importante tra l'altro appunto mi incuriosisce perché non avevo mai pensato diciamo non mi è mai stato sottoposto questo aspetto quindi non ne so molto quello che posso dire che allora il decoro se è inteso appunto nel senso ipocrita di una borghesia che in qualche modo poi sotto sotto no cioè nasconde dio solo sa che cosa questo è sto parlando del concetto in generale no è chiaro che è un concetto che va un po assunto criticamente quello di cui voi mi state parlando mi sembra che centri anche poco col decoro cioè centra ma mi sembra assolutamente legittimo questo voglio dire no cioè voi non è che state invocando una bellezza puramente come direbbe un grande filosofo tedesco cosmetica la bellezza cosmetica è quella che appunto trucca no e sotto magari c'è c'è il mostro per dire no ecco la bellezza di cui e mi piace moltissimo che abbiate evocato questa parola perché secondo me è una parola importantissima oggi che voi appunto a cui voi tenete mi sembra tutt'altro cioè tutt'altro in senso positivo no l'idea proprio di come dire di un'armonia no di una di un equilibrio di un equilibrio appunto anche estetico ma nel senso pieno il fuori in qualche modo deve riflettere il dentro no allora non è che il fuori deve essere necessariamente ordinato per riflettere un dentro diciamo di contenuti può essere anche un po' disordinato allora l'arte per sua natura è disordinata e allora la street art allora bisogna capire di che cosa parlate voi quando parlate di questi come si chiamano poi graffiti no chiamiamoli graffiti fondamentalmente no sui muri e alcuni possono possono quasi essere assimilati appunto alla street art altri sono scarabocchi e basta insomma no e qui il confine diventa veramente molto molto difficile da stabilire io posso allora io non so da chi viene la rivendicazione diciamo del graffito spero che venga comunque da persone con cui vale la pena di interagire perché se viene da persone che poi fanno casino e basta detto proprio brutalmente non ce ne importa niente di interagire e capiamo subito che non ne vale la pena insomma mentre se uno avverte che ne vale la pena gli conviene un attimo fare delle distinzioni no cioè c'è la regola no c'è appunto l'ordine io io amo molto l'ordine quindi come dire sono molto empatica in questo momento nei vostri confronti quando rivendicate diciamo no questo aspetto che poi per l'appunto viene anche rivendicato da tante persone eccetera e quindi come dire adottare un criterio di bellezza che tiene un po' insieme questi due aspetti no cioè che non che non butta via anche la possibilità del disordine perché a volte il disordine esprime qualcosa di importante anche di negativo ma cioè se non lo fa l'arte chi è che può esprimere la negatività no l'arte la filosofia forse potrei dire insomma quindi ecco giustamente voi dite noi siamo un po' nel mezzo no e forse in questo caso mi sembra l'unica posizione un po' da vedere anche contestualmente cioè ci sono ci sono cose che possono rimanere e cose che possono invece essere buttate via insomma comunque uno si impegna per cercare di evitarle ecco è molto molto delicato come problema chi mi è lì naturalmente comincia lo scontro perché uno può dire a me i valori lì non mi interessano e siccome siamo in democrazia anche questa questa posizione ha una sua un suo accreditamento eccetera il vostro punto io io perseguirei il vostro punto di vista cercando ecco di tenere insieme quindi quale valore dobbiamo dare alle regole la regola è importante la regola è importante siamo di un infantilismo spaventoso no cioè e viene fatto un uso distorto di una parola sacra come quella di libertà la libertà diventa l'edonismo più bieco il consumismo più imbecille così a se deve essere cioè non è quella la libertà allora di front lì si capisce molto bene che le regole sono più importanti del caos per l'appunto no così come lo si capisce perché il caos ci sta uccidendo no ci sta distruggendo per l'appunto quali sono gli strumenti più adatti per coinvolgere la cittadinanza e attivarla per il bene comune cerchiamo in qualche misura di accorciare le distanze tra i cittadini e le istituzioni proprio nel senso di oltrepassare un po' quel bipolarismo in cui l'istituzione detta le regole e i cittadini le rispettano in modo un po' passivo e quindi ci chiedevamo quali fossero gli strumenti e i suggerimenti per la diffusione di questa cultura cioè questa cultura di cittadinanza attiva che porta appunto a un dialogo alla pari con le istituzioni siete voi cosa voglio dire voglio dire c'è la democrazia assolutamente bisogno di quello che di quelli che noi possiamo chiamare i corpi intermedi io ho molto amato un filosofo dell'ottocento addirittura che si chiama Alexis de Tocqueville che nella prima metà dell'ottocento fece un viaggio lui era ovviamente faceva parte della compagine governativa fu mandato in negli stati uniti in america a studiare le carceri cioè lui andò lì e subito vide che c'era ben altro da studiare e appunto che cosa ha capito Tocqueville su cui non si è ancora diciamo la sua intuizione non è stata ancora superata perché lui ha capito che non è possibile le democrazie perdono la loro il loro diciamo cuore quando appunto spariscono i corpi intermedi cioè non è possibile cioè se si crea un rapporto secco tra individuo individui e istituzioni la democrazia diventa necessariamente inevitabilmente autoritaria lui lo chiama il dispotismo mite cioè quindi il dispotismo democratico ovviamente non può essere no non può avere forme di tipo punitivo corporale coercitivo e così via è un dispotismo che si insinua no nelle nelle menti delle persone e che appunto porta gli individui sempre di più a queste forme passive di obbedienza quella che lui propone quello che lui propone è esattamente l'associazionismo perché se non partecipiamo appunto cadiamo in questa sorta di diciamo di infantilismo no per cui io delego al padre solo che poi quando il padre dice delle cose che non mi fanno bene allora ridivento ridivento bambino insomma no e mi ribello e cioè e quindi così non funziona insomma e infatti appunto la democrazia deve essere educata quali sono le parole migliori da usare di fronte a chi è rassegnato e si lamenta? certe volte siamo in una piazza in una strada davanti in un giardino e la gente passa ti ringrazia e si lamenta e molte volte ci mancano le parole per agganciarlo e fargli fare un ragionamento che lo scuota allora qui trovare le parole giuste guarda che questa città è anche tua serve uno scatto di dignità la parola usare la parola dignità secondo lei è corretto ma direi proprio di sì di parole ce ne possono essere anche altre di parole ce ne possono essere anche altre come per esempio la parola felicità non la sottovaluterei come dire in fondo in fondo è al fondo di tutto no è al fondo di tutto anche all'inizio quando diceva non mi ricordo chi di voi proprio di nuovo Paola se non sbaglio quando diceva noi ne ricaviamo una gratificazione da quello che facciamo no ecco allora far capire alle persone che occuparsi del bene comune non solo appunto li riguarda anche direttamente ma è anche gratificante perché è un modo di uscire da sé e di occuparsi del mondo cioè il sé quando diventa ego diventa una cosa claustrofobica alla fin fine noiosissima io la trovo noiosissima ci siamo tentati no l'ego che prevale un po' su tutto e però poi quando riusciamo a farlo un po' stare zitto e ad aprire i confini e addirittura a fare cose che noi vediamo creano un qualche sollievo un qualche appunto benessere una qualche appunto contentezza nelle persone eccetera questo diventa gratificante cioè io ho sempre visto questo aspetto anche ora proprio in generale nel volontariato quando parlo di dono la gratuità mi fa uscire da quella dimensione povera misera appunto infelice no della pura preoccupazione di se stessi che è infelice infatti basta dire ma tu sei felice un'altra ma io la userei questa parola ma sei felice ma ti rendi conto che se fai questo se vieni con noi se condividi se fai il bene anche degli altri non solo fai anche il bene a te stesso e sei più felice ecco io la userei questa questa arma diciamo sulla felicità e mi viene proprio da distinguerla dal benessere no cioè noi oggi siamo preoccupati del benessere in senso materialistico e basta insomma no mentre la felicità include la relazione cioè io lo riassumo sempre in questa specie di slogan il benessere è individualistico la felicità è relazionale per l'appunto e questo ci manca quando noi parliamo di condivisione noi stiamo parlando di felicità per l'appunto e credo che sia un sia una parola sufficientemente provocatoria diciamo ecco qual è l'atteggiamento migliore da mantenere quando siamo in strada allegro amichevole competente insomma io attingerei sempre e comunque al nostro bagaglio emotivo le persone sentono sentono la partecipazione emotiva sentono che voi siete lì perché appunto come dire vivete anche probabilmente una tempesta di emozioni no e non tutte positive ma insomma siete umani per l'appunto siamo umani probabilmente sbagliate a volte non azzeccate diciamo il linguaggio giusto e così via però la cosa importante secondo me è non perdere mai il contatto con le proprie emozioni soprattutto da dove diciamo vengono da una sorgente positiva e insomma se fate volontariato io penso che la sorgente positiva prevalga su quella negativa no altrimenti di cosa stiamo parlando in conclusione cosa le viene da dirci dopo questo primo incontro con la nostra realtà di volontariato la famosissima frase di Dostoevsky la bellezza salverà il mondo io sono sono convinta che la bellezza salverà il mondo perché la bellezza appunto quella che non è la vostra non è cosmesi la vostra non è cosmesi perché voi risanate qualcosa cioè lo riportate diciamo alla sua come dice come diceva lei adesso fruibilità quindi uno spazio che tra l'altro poi viene in qualche modo usato e fruito dalle persone no e che magari gli rende la vita più piacevole perché immagino che no tanti spazi degradati che vengono che no vengono riportati alla loro non neanche magari bellezza ma insomma sicuramente alla loro fruibilità per l'appunto io la vedo come una cosa anzi devo dire non confesso non la conoscevo diciamo questa attività così orientata in questo senso e mi sembra non mollate mi sembra una grandissima cosa ma davvero una grandissima cosa assolutamente pari a tutto il resto assolutamente pari alla è ovvio che il volontariato nasce come diciamo qualcosa che solleva dalla sofferenza no volontariato nasce su questo a mille a mille livelli diversi ma oggi questo non basta perché voi in questo modo state in qualche modo come dire lanciando un messaggio un gesto che in qualche modo appunto restituisce ora usiamo la parola bellezza no ad un determinato luogo e lo fa attraverso la condivisione cioè ma scusate ragazzi ci sono tutti e due gli ingredienti per me fondamentali diciamo no che oggi sono particolarmente importanti perché oggi viviamo in un mondo che è sempre più brutto ma oggi è fondamentale questo bisogna stare al passo con i tempi scusatemi voi state facendo questo no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.